Oggi è stata una giornata di lavoro importante qui in Tunisia, insieme a me e alla ministra Lamorgese c'erano i due commissari europei, Valeri e Johansson, che sono i due commissari che si occupano di vicinato e di immigrazione. Noi non ci stancheremo mai di ripeterlo, la frontiera dell'Italia è la frontiera europea e quando c'è un problema di immigrazione in Italia è anche l'Europa che se ne deve occupare. È stata al nostro fianco, abbiamo parlato con il Presidente della Repubblica Tunisina, abbiamo parlato con le istituzioni tunisine e abbiamo chiarito che per noi la Tunisia è un paese sicuro in cui vogliamo fare investimenti, vogliamo aiutare con la cooperazione allo sviluppo ma allo stesso tempo chi arriva dalla Tunisia verrà rimpatriato perché essendo un paese nella lista dei paesi sicuri le persone non scappano da guerre o da persecuzioni. Abbiamo affrontato la crisi sanitaria più importante e drammatica della nostra storia con oltre 35.000 morti, abbiamo dovuto affrontare il picco della pandemia in una situazione difficilissima e per questa ragione non possiamo permetterci rischi sanitari. Abbiamo chiarito che ci aspettiamo la massima collaborazione dalle istituzioni tunisine per fermare le partenze e quindi fermare gli arrivi in Italia e siamo pronti a dare tutte le strumentazioni che servono per affrontare il tema della emigrazione clandestina. Noi abbiamo ottimi rapporti con la Tunisia ma non possiamo pensare che questi rapporti siano ostaggio di qualche trafficante senza scrupoli. Dobbiamo combatterli insieme e lo faremo perché acceleriamo sull'accordo quadro sull'immigrazione, acceleriamo sulla cooperazione e abbiamo chiarito agli amici tunisini che siamo pronti a cooperare anche a livello di Unione Europea, a dare risorse dirette per acquistare, imbarcazioni per i pattugliamenti, strumenti per i pattugliamenti, ma il tempo è fondamentale, non c'è più tempo. Chi arriverà sarà rimpatriato e lavoreremo congiuntamente per fermare le partenze.